salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo della versione 2 di un prodotto che ha avuto un successo incredibile che ha pure cambiato nome nella sua evoluzione perché è stata adattata ai droni dove ha trovato probabilmente il suo utilizzo ideale e il prodotto di cui stiamo parlando è questo drone mask 2 questo visore che veramente è incredibile per come ci riproduce tutto quello che vediamo nei nostri droni e soprattutto che è compatibile per chi non lo sapesse con qualsiasi applicazione per droni e non perché comunque lei utilizzabile con qualsiasi applicazione che sia installata sul nostro smartphone compreso youtube o qualsiasi altra cosa questa è la versione 2 non guardate il logo perché questa è una pre-release quindi è una versione della confezione ancora beta e la confezione definitiva avrà un logo un pochino diverso comunque questa nuova maschera ha diciamo migliorato quello che erano i difetti della precedente essendo un prodotto che non è tecnologico quindi l'evoluzione ovviamente solo migliorare i difetti costruttivi o meglio di utilizzo che aveva la versione precedente quindi cosa hanno fatto i ragazzi di drone mask hanno diciamo introdotto due cose che creavano veramente fastidio agli utenti la prima è inserire in confezione i cavi per il collegamento del nostro smartphone ai nostri dispositivi di controllo dei nostri droni quindi questi cavi lunghi che magari uno faceva fatica a reperire perché soprattutto devono essere cavi otg quindi cavi che hanno una comunicazione contro smartphone e controller quindi abbiamo all'interno tutte e tre le possibilità di cavo cavo lighting type c cavo type c type c o cavo type c micro usb in modo che c'è tutte le possibilità di compatibilità con qualsiasi controller e in più è stato modificato il case della maschera andando ad introdurre una cosa che è veramente fastidiosa per questi visori chiamiamolo così analogici perché non avendo niente di tecnologia tutto gira intorno appunto a solo delle lenti e al nostro smartphone e la cosa fastidiosa cos'era che quando dovevamo intervenire nelle opzioni dell'applicazione qualsiasi essa sia per droni o non dovevamo aprire la maschera e andare a cliccare le varie funzioni con il drone magari in volo e via dicendo perché ovviamente lo smartphone all'interno della maschera quindi aprire cerniera e via dicendo adesso invece è stato risolto questo problema in maniera semplicissima ma con un'efficacia ragazzi pazzesca e ci dà veramente una possibilità di utilizzo più semplice è più comoda cioè veramente fantastica tra poco vi farò vedere come hanno fatto i ragazzi di drone maschera risolvere anche questo fastidiosissimo problema quindi adesso guardiamo cosa c'è nella confezione come diciamo la nuova modifica che ha introdotto drone maschera sul suo visore e poi la proviamo con un drone per vedere come appunto si interagisce adesso con l'applicazione e poi ve la faccio vedere anche in un'altra possibilità di utilizzo che è un'altra di quelle cose super fighe che ci dà la possibilità di fare un visore come drone maschera un visore qualsiasi che troviamo magari su amazon vi dicendo che ovviamente non avendo la lente come questa che è esclusiva per drone maschera non sono niente di paragonabili a tutto questo che per chi non lo sapesse qua ragazzi abbiamo una qualità dal punto di vista del risultato visivo eccezionale perché sembra di essere davanti a maxi schermo e soprattutto la definizione pazzesca data da queste lenti incredibili o meglio questa lente incredibile che alla fine è una lente unica che appunto è in grado di riprodurre qualsiasi cosa abbiamo nello smartphone e soprattutto più il nostro smartphone ha una qualità alta livello di display più lei è in grado di restituirci una qualità visiva incredibile quindi non perdiamo altro tempo e iniziamo a vedere cosa c'è e cos'è cambiato in questa drone maschera 2 la confezione come vi ho detto è una pre release quindi è una versione beta sarà leggermente diversa nella versione definitiva nel caso l'andiate ad acquistare ed ecco qua subito troviamo la drone maschera col suo sacchetto classico adesso lo lasciamo un attimo da parte e poi troviamo un panno per la pulizia delle lenti molto importante perché la lente qua ragazzi è quello che veramente il fulcro di questa drone maschera e poi come vi dicevo prima vedete abbiamo tutte le possibilità di cavo per collegare qualsiasi dispositivo ai nostri controller con le varie diciamo tipi di connessioni quindi micro usb e lighting type c type c type c sono cavi lunghi appunto perché il cavo deve essere lungo perché deve arrivare fino al controller sono cavi appunto idonei a questo tipo di utilizzo poi abbiamo il manuale di istruzione ovviamente super semplice perché poi è proprio minimal essendo un prodotto non tecnologico e poi abbiamo lei ladrone maschera 2 lei rimane praticamente identica dal punto di vista estetico alla precedente non spaventati perché non l'ha mai vista si lei è molto minimal da punto di vista dei materiali perché quello che fa la differenza in questa drone maschera ovviamente è questa lente vedete che praticamente risulta come una lente unica che ci permette di avere una qualità assurda e soprattutto di riprodurre qualsiasi tipo di applicazione che non sia predisposta per visori vr quelli classici che troviamo normalmente su amazon magari a 20 30 euro dove però bisogna avere un'applicazione dedicata che divide lo schermo in due abbassando la risoluzione della qualità dello smartphone e soprattutto avendo il limite delle applicazioni che hanno quella possibilità mentre qua qualsiasi cosa e soprattutto con una qualità assurda perché mantiene quello che è la qualità dello smartphone è questo che fa il prezzo di questa drone maschera che è stato tanto contestato il prezzo perché comunque si lei materiali semplici anche se di qualità perché comunque anche se sono materiali economici da punto di vista costruttivi sono veramente curati comunque di qualità però è lei veramente la cosa principale soprattutto è l'unicità perché solo lei ha questo tipo di lente e la modifica principale che è stata fatta che è quella veramente che dà la svolta a questi tipi di visore è per assurdo questo semplice taglio che è stato fatto qua nella maschera inserendo queste pezze di stoffa chiamiamole così che vanno ovviamente quando rilasciate a sigillare quindi non fare entrare la luce ma potremo entrare con le dita in questa maniera e cliccare sul display dello smartphone quindi andare a cambiare le impostazioni dello smartphone quindi quando stiamo volando col drone per esempio cambiare la risoluzione cambiare le impostazioni video e foto a livello di parametri tutte queste cose che prima dovevamo invece andare ad aprire ovviamente qua davanti la maschera poi andare a selezionare le cose di chiudere col drone fermo in overing e via dicendo mentre adesso potremmo farlo come se lo smartphone è praticamente ancora attaccato al nostro controller è una cosa stupidissima dal punto di vista pratico quello che è stato fatto ma veramente geniale dal punto di vista pratico nell'utilizzo e rende l'esperienza di questa maschera ancora più immersiva e ancora più semplice da utilizzare ed è fantastico vi lascio qua sotto i link in descrizione per acquistare se volete dargli un'occhiata sapere il prezzo sapere tutte quello che è la spedizione vi lascio qua sotto appunto i link e adesso però direi di iniziare a provarla la proveremo con l'app san zino mini pro quindi metterò in overing il drone e vi farò vedere come funziona appunto andare ad utilizzare lo smartphone con questi nuovi fuori e soprattutto utilizzeremo i suoi cavi per collegare il controller dell'app san zino mini pro che dovrà collegarsi con micro usb a lighting nel mio iphone quindi adesso iniziamo il primo test perfetto abbiamo connesso il tutto lì c'è l'app san zino mini pro mentre qua abbiamo la connessione vedete cavo type c con adattatore tutto incluso in confezione l'iphone dentro nel visore e cavo ovviamente lighting che si attacca all'iphone quindi a questo punto io dovrei far partire l'applicazione dell'app san zino mini pro però mi sono già chiuso la maschera cosa succede che nella versione precedente avremmo dovuto aprire la cerniera far partire applicazione e via dicendo mentre adesso posso andare a tirare giù la mia maschera entrare con il dito andare a cliccare app san zino mini l'applicazione di utilizzo dello zino mini pro e andiamo ad aprire l'interfaccia e ragazzi vedete che 4 memoria richiesta tutto ok lo so lo so perfetto quindi non si vede niente dal punto di vista delle riprese perché come sapete finché non è in volo qua tutti avvisi ovviamente vedete che avremmo dovuto aprire la maschera per andare a chiudere invece qua basta infilare il dito a questo punto non ci resta che decollare perché comunque come sapete lo zino mini pro finché non decolla per un risparmio energetico non attiva la registrazione video e quindi neanche il ritorno video quindi perfetto decolliamo ed ecco qua mi giro verso di me ecco cambia lontano un pelo perfetto ragazzi guardate che figata incredibile mi giro verso il drone allora se io vado adesso a inserire il dito qua dentro posso entrare nelle impostazioni della videocamera vedete cambiare i parametri tutto usando il dito ed è veramente pazzesca questa cosa ovviamente nelle parti più in alto magari si fa fatica arrivare col dito dipende quanto è lungo il vostro dito ma nelle parti principali ci si arriva benissimo tipo adesso vedete sono su foto vado a cambiare in video vado nelle impostazioni video posso cambiare la risoluzione tutto ovviamente con il dito inserendolo qua dentro ed è una svolta incredibile ragazzi in questi visori per chi utilizza visori ur ma anche non questi anche quelli economici sa che tutto deve passa per andare a cliccare lo smartphone aprendo il visore o tirando fuori il telefono c'è sempre una cosa complicata ancora peggio ovviamente se l'utilizzo è per i droni dove cambiamo spesso magari impostazione dobbiamo regolare ragazzi questa è davvero l'innovazione fantastica semplicissima perché praticamente un pezzo di stoffa chiamiamolo così che si va a richiudere quando togliamo il dito quindi di luce non entra minimamente ed è pazzesco sempre ogni volta che indosso questa maschera come si vede a livello di risoluzione e di dimensione perché stiamo di essere al cinema e soprattutto con una qualità allucinante come vi ho detto più il vostro smartphone avrà qualità dal punto di vista della risoluzione dello schermo più lei è in grado di mantenere quella qualità è incredibile quindi ragazzi questa è la prima modifica che è stata fatta dal punto di vista costruttivo e poi l'altra l'aggiunta di questo che aveva creato tanti problemi tanti mi scrivevano ma quale devo comprare perché comunque se non è un cavo otg il ritorno video non c'è nel telefono quindi ci serve lunghezza e serve che sia un cavo otg quindi quei problemi che aveva questa maschera sono stati risolti in questa versione 2 quindi detto questo e dopo aver fatto vedere cosa è cambiato e cosa sono gli accessori introdotti in questa versione 2 adesso voglio farvi vedere in facendola indossare a mia moglie che non l'ha mai provata soprattutto mai provata con un drone volerò col dj avata che è in grado di con il suo visore dj di fare uscire il segnale video nell'applicazione dj fly per condividere appunto quello che vediamo in live noi nel nostro visore quindi tutto esce nello smartphone inserendo lo smartphone qua dentro ragazzi chi è con noi riesce a vivere le stesse identiche emozioni che viviamo noi con il visore diciamo di dj ai e in più per chi non lo sapesse con dj avata nella versione con il visore nuovo la comunicazione è addirittura senza cavo quindi il visore dj ai comunica con il vostro smartphone in wireless quindi la riproduzione nel in questa maschera sarà wireless mentre quello che vedremo oggi sarà con il cavo perché io visore dj ai la prima versione quella del dj fpv quindi detto tutto questo adesso mettiamo in volo dj avata indossiamo a erica la drone mask 2 e vediamo come le vive questa esperienza dal punto di vista sia qualitativo delle emozioni e di cosa riesco a trasmettere i collegi ai avata in un volo fpv condiviso quindi prepariamo il dj avata ma facciamo a tirare prima l'app san zino mini pro perfetto ragazzi allora vedete qua il visore dj ai qua abbiamo la drone mask che sta indossando mia moglie e lei non l'ha mai provata perché chi segue il mio canale aveva visto una cosa del genere fatta con dj fpv facendo indossare al mio papà per i suoi 80 anni l'ho portato in montagna ho fatto un volo di quelle emozionanti arrampicando mi stuporano la montagna ed era rimasto sconvolto da come si vedeva bene soprattutto dalle emozioni che si trasmetteva con un volo in fpv perché il bello è questo riuscire a trasmettere quello che vediamo noi qualche qualità incredibile mantenere la stessa qualità in un altro visore e quindi trasmette le stesse emozioni che proviamo noi e farle trasmettere ad un'altra persona soprattutto una persona che non vola con i droni quindi non è abituata a vedere è un volo in fpv dj avata pronto erika sei pronta lei è pronta quindi diciamo che è il volo adesso può iniziare quindi abbasso il visore e iniziamo questo volo quel dj di posto chiamiamolo così perché sarà un volo di posto come c'è le formula 1 di posto le moto gp di posto questo sarà un volo di posto in fpv quindi avviamo i motori ok decollati erika come ti sembra erika sei viva erika parla mi fa ridere perché sembra di avere su un pilota morto come erika ci sei vediamo se riesco a farla vomitare tipo quelli che provano magari a andare su un aereo un jet gli viene da vomitare noi faremo la stessa cosa facendo una cosa di questo tipo stai vomitando ok perché ragazzi comunque un volo in fpv soprattutto per chi non l'ha mai provato è comunque impegnativo anche dal punto di vista anche dell'equilibrio perché avere un visore con le immagini che si muovono davanti ai nostri occhi fa perdere un po anche il senso dell'equilibrio non è una cosa semplicissima appunto per chi non l'ha mai provato guardate ma si vede bene benissimo attento a che cosa attento che se mi dice attento ma non mi dice a cosa vuoi che ti vengo addosso così ti vengo addosso guarda eh vedi che ti vengo addosso guarda che ti vengo addosso ecco quindi ragazzi questo è quello che è possibile fare con questo visore che ragazzi è incredibile perché comunque non sarebbe possibile farlo con nessun altro visore di quelli economici classici perché l'applicazione DJI Fly non è predisposta per essere divisa sullo schermo cioè lei è un'immagine unica quindi solo con questa maschera è possibile riprodurre la DJI Fly ma soprattutto riprodurla con una qualità come quella che abbiamo noi nel visore DJI praticamente abbiamo la stessa risoluzione la stessa qualità che rimane incredibile e ci permette davvero di trasmettere a un nostro passeggero quello che stiamo vivendo noi in questo visore ed è fantastico adesso gli sto facendo vedere i cavalli a Erika e il maneggio che lei dall'alto non l'ha mai visto adesso scendiamo mi stai toccando dentro perché stai svenendo non lo so stai perdendo l'equilibrio ok perché comunque ragazzi davvero è una sensazione che all'inizio l'FPV fa perdere un po' l'equilibrio a chi lo vive per la prima volta mi succedeva anche a me all'inizio dopo è una cosa che ci si abitua e si va un po' a perdere si va a perdere anche totalmente quindi adesso ci fermiamo mentre prima ero in modalità acro quindi con il volo quello più manuale possibile adesso invece siamo in normal quindi possiamo tranquillamente parcheggiarci qui davanti a noi eccoci qua rialza pure il visore Erika perché se no mi svieni ed ecco qua il dji avatar adesso lo facciamo atterrare quindi lo porto qua da me perfetto ragazzi cosa dire quindi le conclusioni di questa drone mask versione 2 allora sono state appunto migliorate quelle cose che davano fastidio agli utenti che avevano acquistato la prima versione quindi la reperibilità dei cavi di connessione e soprattutto la possibilità di interagire con lo smartphone dall'esterno come in questo caso mentre prima dovevamo aprire ogni volta il visore l'ultima cosa che secondo me loro dovrebbero cercare di migliorare anche se non so quanto sia possibile magari in una versione 3 è il peso che si va a sentire ovviamente quando ce l'abbiamo indossata perché comunque avendo lo smartphone qua davanti e il visore io tipo lo devo tenere molto allungato in avanti per vedere bene perché lui ovviamente è regolabile in base appunto ai nostri occhi e come nella versione precedente perché questo è rimasto uguale c'è molto peso in avanti poi tipo io ne soffro un po' meno perché ho una testa più grossa quindi si va a sentire meno il peso nel senso si gestisce meglio mentre tipo mia moglie che ha una testa più piccola molto di più il fatto che pesasse in avanti questa è una cosa comunque che bisogna dire perché secondo me è un difetto che ha non so quanto sia possibile ma se dovesse riuscire a fare questo sarebbe la perfezione di questo visore anche se comunque il tutto è dovuto molto al peso del telefono che comunque è in questa posizione e a quello ci si può fare poco però lavorando con la regolazione delle cinghie sia queste laterali che quella sopra la testa si va comunque a diciamo migliorare appunto quello che è il peso o meglio la caduta della maschera in avanti data appunto dal peso quindi ragazzi queste sono le mie considerazioni però avete visto che utilizzo incredibile che si può fare e come adesso l'esperienza di utilizzo è ancora più pratica con queste modifiche senza nemmeno lo stress dell'acquisto dei cavi quindi ragazzi qua sotto il link in descrizione nel caso la vogliate acquistare ovviamente non posso trasmettervi realmente come si vede perché solo chi la prova può rendersi conto di che qualità assurda sia qua dentro però trasmetterla è impossibile si può solo trasmettere parlando con le emozioni ma non a livello pratico è impossibile quindi dovete fidarvi perché è davvero assurda quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato in anteprima la drone mask 2 uscita proprio oggi da oggi la potete acquistare qua sotto trovate il link in descrizione se questo mio video vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anche di lei tantissimi spoiler erano arrivati e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutti i droni la tecnologia in generale anche di lei se verranno rilasciati di coupon sconto li troverete sicuramente nel mio canale telegram ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube che non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ciao e al prossimo video